L'intesa trovata con il ministro Fitto potrebbe portare numerosi frutti, quindi meglio sfruttare il momento e cavalcare l'onda favorevole. E l'intenzione di Vendola, nonostante le perplessità del centro-sinistra, sembra proprio questa. Così prende carta e penna e scrive ai governatori del Sud, invitandoli ad unire le forze e tutti insieme chiedere al governo di modificare le regole del patto di stabilità. Solo così, secondo il presidente della regione Puglia, si potrebbero usare le risorse sbloccate con l'approvazione del piano per il Sud. Noi abbiamo tanti soldi, ha commentato Vendola, e non li possiamo spendere. Questo è veramente paradossale. Dobbiamo rompere il salvadanaio. Quando lavoriamo insieme, facciamo squadra, otteniamo dei risultati, tanto più se facendo squadra troviamo un interlocutore nel governo centrale, in questo caso il ministro Fitto. A quanto pare, il presidente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà ormai riesce a dialogare più con gli avversari rispetto a quelli che dovrebbero essere i suoi alleati. Tanto che dagli stessi banchi del PD della regione Puglia, Antonio Maniglio definisce questo nuovo clima zuccheroso e stucchevole. Ma Vendola non nasconde affatto a degradire questo clima. Tutti hanno visto che si è aperto un varco nel rapporto tra i governi regionali, soprattutto ha sottolineato tra le regioni del Sud e il governo nazionale. Questo varco è frutto del lavoro paziente, riservato e dell'intesa che vi è stata tra il ministro Fitto e me. La sua iniziativa, insomma, dovrebbe mirare, secondo quanto affermato, a fare squadra, prendendo il vezzo buono di parlare noi del Sud in vita Vendola, stabilendo contatti strutturali e solidi con chiunque a Roma abbia intenzione di ascoltare le nostre ragioni. Oggi conclude che è una buona giornata, dobbiamo impegnarci perché ci siano domani e dopodomani esempi altrettanto positivi per il Sud. Ora non resta a che attendere la reazione dei colleghi governatori del Mezzogiorno all'idea.